Dalla bacheca. La bacheca nella casa dove sono avvenute le riunioni del cerchio d'oro. Contiene alcuni apporti avuti tramite diversi strumenti, che non erano apporti ad personam e che sono rimasti nel luogo dove sono stati materializzati. Altri apporti, come la polvere bianca di Demofilo Fidani, il sacchetto che la contiene si intravede sulla sinistra in basso, sono stati materializzati in altri luoghi. Domanda. Avete tolto qualcosa dalla bacheca dove sono conservati gli apporti? Cerchio d'oro attraverso GV Imperator. No, abbiamo solo risistemato tutto. Domanda. C'è un motivo? Imperator. Abbiamo simmetrizzato l'energia. Un modo per bilanciarla consiste anche nello spostare certi oggetti solo da un lato, non solo facendoli scomparire. Domanda. In effetti gli apporti prodotti da voi sono solo su una mensola. Imperator. Certo. Perché era quella bilanciante e le altre.